Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questa mattina cominciamo partendo dalla Serie B. Ieri abbiamo già visto la vittoria della Ternana che ha battuto il Benevento per 3-2, un ennesimo successo per la squadra di Lucarelli, il quinto consecutivo. Possibilità di andare al primo posto dipendeva però da quello che sarebbe successo in Bari contro Ascoli. E' venuta la prima sconfitta per la formazione di Mignani che ha perso per 2-0 al termine di una partita molto scorbutica, una partita diversa da quelle che la squadra di Mignani aveva giocato fino ad ora, nella quale ha fatto fatica a imporre il proprio gioco e la propria velocità. Merito sicuramente però dell'Ascoli, squadra che ho già seguito più volte nel canale sia lo scorso anno che quest'anno, squadra della quale io personalmente ho grandissima stima, ho grandissima fiducia che possa essere un gruppo in grado di fare molto bene e minimo la qualifica per i play-off. Non sono così convinto fino ad ora di quello che sta facendo la guida tecnica però devo dire che Bucchi sta lavorando molto sulla squadra rispetto alle prime partite della stagione, sta cambiando molto, ha provato anche forse più per necessità dovute a infortuni o squalifiche, giocatori nuovi rispetto a quelli che giocavano abitualmente, devo dire che credo abbia avuto anche delle buone risposte. Il Bari viceversa ha trovato un brutto pomeriggio, ci poteva stare d'altra parte siamo alla nona giornata, fino ad ora il Bari era l'unica squadra imbattuta, stava giocando un calcio strepitoso, non credo che sia cambiato nulla adesso, è semplicemente una sconfitta, ci sta nell'arco del campionato, peraltro il Bari fa più fatica a giocare in casa rispetto a giocare in trasferta, l'Ascoli si è presentato molto arroccato, molto chiuso in difesa, chiuso gli spazi, chiuso il tridente offensivo del Bari che stavolta ha fatto molta più fatica a mettersi in mostra. Sapete tutti, detesto la difesa 3, però devo dire nell'Ascoli, come già avevo detto nel video dopo la partita con il Benevento, credo sia una delle poche squadre nella quale la trovo più armonica, la trovo costruita bene sia in fase di manovra sia in fase di chiusura, in fase difensiva, trovo che si adatti bene al vestito di questa formazione, per cui è un raro caso dove non disdegno così tanto la difesa 3. Per il resto invece, come dicevamo, la grande capacità, il grande merito soprattutto della partita dell'Ascoli è stato imbrigliare la velocità che è stata fino ad ora l'arma vincente del Bari in questo inizio di campionato, invece un po' tutto il tridente offensivo stavolta, soprattutto immagine di Chedira, che stavolta ha avuto una cattiva giornata, ma come credo sia assolutamente normale. Io non trovo da questa sconfitta motivi particolari di preoccupazione. Uno, perché è stata piuttosto episodica, nel senso che l'Ascoli non ha dominato la gara, però l'Ascoli è stato cinico, è stato bravo a sfruttare le proprie occasioni, ha segnato di fatto tre gol, il primo è stato annullato dalla Moviola, e poi ha realizzato due reti, sfruttando anche una retroguardia del Bari, che forse oggi ha fatto un po' più di fatica, anche perché Di Cesare è stato ammonito piuttosto presso nel primo tempo, e questo ha tolto un pochino, forse anche di sicurezza, Vicari stesso ha giocato una partita meno positiva rispetto alle altre giornate, quando poi Di Cesare è stato sostituito nella ripresa e al suo posto è entrato Terranova, che non giocava da un po', ha fatto un po' più di fatica a entrare in materia, quindi è stato anche un po' dietro l'assetto stavolta che ha fatto fatica. Palli inattive, peraltro, il problema è il cross in area, il gol del vantaggio dell'Ascoli nasce da un bel mischione nel quale è bravo Simic, Simic che lo scorso anno giocava nel Lecce, è entrato più volte, soprattutto nei secondi tempi, credo sia un buonissimo giocatore che faceva fatica a trovare spazio fino ad ora, io sono abbastanza un estimatore anche di Bellusci, però credo che lì dentro, anche in questa logica di giocare con la difesa 3, comunque le alternative sicuramente all'Ascoli non mancano, il secondo gol è realizzato poi Dionisi, che è un giocatore splendido per talento e per capacità individuali, ogni tanto purtroppo il suo temperamento polemico esce anche in maniera eccessiva, anche ieri credo che non ci fosse bisogno di andare a esultare vicino alla panchina del Bari, a creare altre polemiche, insomma hai vinto, hai segnato, bravissimo, goditi con i tuoi compagni la vittoria senza dover andare sempre a cercare nei confronti degli avversari rivalse che d'altra parte in questo caso ti ha già dato il punteggio peraltro, quindi da questo punto di vista ho trovato un po' inutile, però dal punto di vista invece del gioco il Bari ha avuto qualche chance nel primo tempo, Antenucci un paio di tiri da fuori, qualche situazione sotto porta, però è stato tutto meno nitido, meno forte rispetto anche alle altre gare, Mignani è stato bravo a provare a intervenire, ha cambiato anche molto, ha messo Salsedo, ha messo Botta, ha messo Seter, ha cambiato tutti e tre gli uomini, Bellò, Montenucci, che dire, sono stati tutti sostituiti, nessuno però stavolta è riuscito a incidere, ha immagini anche di Derrico che solitamente quando entra riesce subito a essere esplosivo in giornata, invece quando ha preso il posto di Benedetti oggi sicuramente non è riuscito a dare il proprio apporto, Maite è stato eccellente come sempre, però devo dire che il fatto che non ci fosse Mallamo credo si sia sentito tantissimo perché Maite e Mallamo messi disposti diversamente in campo danno sicuramente un ottimo contributo, Benedetti ha fatto un debutto dall'inizio interessante, ma sicuramente il ragazzo giovane deve ancora un po' farsi. L'Ascoli era molto molto chiuso, ha immagine soprattutto di questi simici e Botteghin che hanno giocato benissimo, ma anche 40 non ha fatto mancare il proprio contributo, centrocampo ha giocato una discreta partita, il giovane giovane è stato poi sostituito, l'inserimento nella ripresa anche di Caligara ha dato quel quid in più di esperienza e davanti le occasioni appunto due tiri sostanzialmente nello specchio, due reti e vittoria meritata. Ascoli che io continuo a credere che sarà protagonista di un bel campionato, si trova poi l'assetto, oggi Gondo per esempio ha giocato meno bene lì davanti di Onisi, è un po' troppo solo, c'è l'attaccante portoghese che ha giocato l'altra partita contro il Benevento che non mi aveva molto convinto, però probabilmente potrebbe dover partire lui settimana prossima come titolare al posto di Gondo che alla fine dalla panchina ha preso un secondo cartellino giallo, Pedro Mendes che non è che avesse fatto così tanto a Benevento, però lo vedremo magari dal primo minuto. Veniamo alle paginele di questa gara, 6 a Caprile, paginele sono per il Bari qualche lieve insufficienza e un 6,5 l'Ascoli qualche 7 in più, un paio di 7 per i difensori centrali. 6 a Caprile, 6 a Puccino, 5,5 di Cesare Vicari come detto un po' più insicuri del solito, 6 a Ricci, centrocampo 6 a Benedetti, 6,5 a Maita, 5,5 a Fodoruscio, davanti 6 a Belluomo, 6,5 comunque a Antenucci e 5 a Chedira che oggi ho trovato davvero un po' giù di forma rispetto alle altre giornate. Dei subentrati 5,5 a Terranova, 5,5 a Salsedo e a Botta, Delrico negativo il suo approccio e Seter poco da segnalare, non è riuscito a fare più di tanto. 6 comunque a Mister Mignani, per quanto riguarda l'Ascoli, 6 a Guarna, 7 sì a Simic che a Botteghin che sono stati molto bravi, 6,5 a Quaranta che ha preso un giallo assurdo andando a farsi mezzo campo per protestare, insomma quello è stato l'unico aspetto negativo della sua prova. 6 a Donati, 6,5 a Collocolo, 6,5 a Eramo, centrocampo di esperienze di qualità, 6 a Giovane, 6,5 a Caligara entrato dalla ripresa, 6,5 a Falasco che è un giocatore che mi piace molto, 6,5 a Dionisi con mezzo punto in meno per le inutili polemiche, 5,5 a Gondo che oggi ho trovato un po' meno protagonista rispetto a tante altre volte, 7 a Mister Bucchi che stavolta è riuscito decisamente a leggere molto bene la partita e a trovare le giuste mosse per mettere in difficoltà il Bari. Arbitrato Rutella, un primo anno in Serie B, ora credo ci sia bisogno di dire una cosa rapidissima, il Bari è una neopromossa e quindi è logico che il disegnatore mandi arbitri ai primo anno a fare le neopromosse, ok, però il Bari è anche primo in classifica, è un po' cambiato credo lo status del Bari, è già arrivato Feliciani la settimana scuola, due settimane fa contro il Brescia, ora anche Rutella, questa era una partita da dare un arbitro di più esperienza, Rutella l'ha persa al giallo di Di Cesare, un giallo che poteva evitare, da quel momento sono nati un po' piccoli parapiglia, niente di particolare, non che sia successo niente di trascendentale, però probabilmente non ha ancora gli strumenti per poter affrontare una gara di questo genere. Il voto a Rutella è 5, ha fischiato 31 falli, 9 cartellini gialli, il rosso a Gondo non decisivo, ma sicuramente può fare meglio e vedremo, sono sicuro, perché è un arbitro di capacità, perché l'avevo visto anche tante volte in Serie C. Grazie ragazzi, fatemi sapere un po' le vostre opinioni su questa partita, credo non sia cambiato niente, il Bari è molto forte ed è una bella squadra, l'Ascoli è una squadra molto competitiva che attendo ad altri risultati importanti. Iscrivetevi al canale, aspetti i vostri commenti, ciao a tutti e un bacio da Lox, ciao!